Dio ti fa grazia. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo oggi il Vangelo secondo Luca, capitolo 1, dal 57 al 66. In quei giorni per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne, no, si chiamerà Giovanni. Le dissero, non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse, Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo che sarà mai questo bambino. E davvero la mano del Signore era con lui. Amè. Cari amici, oggi concludiamo questo primo capitolo del Vangelo secondo Luca che per tutta questa terza settimana di avvento abbiamo ascoltato. Abbiamo ascoltato le meraviglie che Dio ha fatto nella vita di Zaccaria e Elisabetta, nella vita di Maria. Oggi vediamo e assistiamo alla nascita di Giovanni il Battista, colui che era stato annunciato dall'angelo a Zaccaria. Viene dato un nome nuovo a questo bambino. Quindi non è solo un bambino prodigioso, un bambino importante, il profeta dell'Altissimo, ma ha in sé una caratteristica che è la novità, la novità del Vangelo. Il suo nome, infatti, Giovanni, significa Dio ha fatto grazia in ebraico. Quindi è un nuovo disegno. Ieri, in questi giorni, vi sto dicendo, vi sto annunciando che il nostro Dio è un Dio di sorprese. E in ogni Natale c'è una novità, c'è una sorpresa, c'è un dono da parte di Dio dall'alto che viene a sorprenderci, viene e interviene nella nostra vita. E quando viene, porta la grazia, porta qualcosa di speciale per la nostra vita. Alla famiglia di Zaccaria, Elisabetta ha portato qualcosa di nuovo, un nome nuovo. Non era consuetudine cambiare il nome, doveva essere il nome del padre, Zaccaria. Doveva continuare una tradizione, una routine benedetta, ma una cosa che già si sapeva. Quando Dio viene, invece, in mezzo a noi, quando viene e trova in te un cuore aperto, un cuore disponibile, un cuore che si lascia plasmare da Lui, ecco che ha la capacità di fare cose nuove. Ecco che ti dà anche a te un nome nuovo, e il nome di Giovanni è l'inizio delle novità di Dio, l'inizio della grazia di Dio, l'inizio della salvezza, perché contemporaneamente a Giovanni Battista c'è Gesù, c'è il Filo di Dio, c'è il Salvatore, c'è il Verbo che è venuto e si è fatto carne. Ecco quanto è importante quindi oggi, in questo brano, accogliere le novità di Dio, accogliere un Dio che ci sorprende con la sua misericordia, con le sue novità. Noi siamo stufi di un passato, di tante situazioni che continuamente si affacciano nella nostra vita. Vogliamo qualcosa di nuovo? Ecco, Dio te lo dà, Dio ti fa grazia, Dio vieni ad ascoltare la tua preghiera. Allora insieme a me, di al Signore, grazie. Grazie Signore Gesù per il tuo Vangelo, per le parole che oggi tu vuoi dirmi, grazie per come tu vieni a sorprendermi. Signore apri il mio cuore, apri i miei occhi alla tua parola, aprimi per essere disponibile a ricevere la tua grazia, a ricevere la tua bontà, a ricevere la tua misericordia. Io ti chiedo, vieni nella mia vita, ho bisogno di te, voglio fare una nuova esperienza della tua grazia e riempimi con il dono straordinario del tuo Spirito Santo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco la benedizione di Dio per te, ecco lo slogan di oggi. Dio ti fa grazia, ricevi oggi la grazia di Dio, una grazia speciale, una grazia formidabile. Accogliamo anche una bella testimonianza che la parola di Dio e la nostra scuola biblica ha fatto a una sorella di nome Carmela. Cristo è risorto. Ringrazio con tutto il cuore la coinonia Giovanni Battista per il corso biblico online. In questi tre anni ho imparato tante cose nuove sulla storia della salvezza. Ogni libro della Sacra Bibbia che leggevo era un prezioso scrigno per me, che mi donava tanti insegnamenti appagando quella grande sete che ho sempre avuto riguardo alla parola. Sono sincera, prima di questo corso leggevo poco la parola e ascoltarla in chiesa non mi entrava nel cuore. Ogni mattina mi metto ai piedi del Maestro per ascoltare la Sua parola e i Suoi insegnamenti, per metterli in pratica. Vi assicuro che leggendo questo sacro libro con perseveranza giorno dopo giorno, ho sperimentato un legame d'amore sempre più forte con il Signore. Io lo amo con tutto al cuore e cerco di metterlo sempre al centro della mia vita. Mi sono innamorata della parola. Ho bisogno di leggerla ogni giorno perché mi dà la forza di affrontare tutte le difficoltà. Mi dà la sicurezza nei momenti di paura. Mi ha guarito tante ferite che avevo al cuore. Mi ha insegnato a perdonare sempre, anche quando ho ragione, ad amare tutti, soprattutto coloro che mi fanno del male. Mi ha donato tanta pace nel cuore. Mi aiuta a non giudicare gli altri. Ha aumentato la mia fede, la fiducia. Ogni giorno sto sperimentando che Gesù è vivo, cammina con me, non mi abbandona mai. Io sono una persona molto sensibile. Mi commuovo spesso dalle meraviglie che compie nella mia vita perché mi sento indegna di tutti i Suoi doni. Ma nella barca della mia vita ci sono anche tante tempeste, ostacoli. Ma il mio Gesù mi dà sempre il coraggio e la forza di vincere ogni male. Io consiglio a tutti di fare questo corso perché imparare a conoscere la parola è molto importante. Ci aiuta tutti a diventare persone spirituali. Per cui la parola di Dio sarà sempre la mia bussola che mi guiderà sui sentieri della vita eterna, dove un giorno potrò contemplare il volto del Signore. Ringrazio tanto anche Padre Luca che ci ha spiegato ogni lezione con tanta semplicità. Lui è un ottimo professore. Ringrazio la carissima sorella Ianca che puntuale ogni mese ci ha inviato le lezioni e le risposte dei compiti. Il Signore vi benedica per tutto il lavoro che fate. Grazie, grazie tanto, vi voglio bene. Un abbraccio con affetto, Carmela. Grazie a te Carmela per la tua testimonianza che edificherà e aiuterà molti di coloro che seguono questi video di commento al Vangelo. Sappiatelo, fratelli e sorelle, che fino alla fine di questo mese, ma anche all'inizio di gennaio, è possibile iscriversi sul nostro sito alla nostra Scuola Biblica online. Un dono di questo Natale è anche il nostro nuovo videoclip, un videolyrics, del canto che abbiamo composto come Shout Quoinonia. Gli angeli cantano Remix. Ascoltatelo e gioite per la venuta di Gesù. Gli angeli nei cieli cantano, ma anche noi cantiamo. Gesù è vivo e in mezzo a noi è l'Emmanuele. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, a domani. Ciao. Un grande coro di angeli che cantano Gloria nell'alto dei cieli e pace in terra Gloria nell'alto dei cieli e pace in terra Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.